Ciao a tutti! Allora, direi che ci sono diverse novità, vendi di nota, piacevoli o meno, sia a livello nazionale che internazionale. Per quanto ci riguarda, sicuramente sono ben poco piacevoli le attuali limitazioni dovute alle nuove ordinanze, perché comunque vanno a precludere quella che è la nostra libertà di movimento. E soprattutto per chi vive, diciamo, nelle cosiddette regioni rosse. Quindi sì, al momento abbiamo un'Italia multicolor, ma prossimamente, tra non molto, sarà unicolor, per quello che posso intuire. Ma non solo io, in tanti la pensano come me. Adesso ce l'abbiamo arancione, verde, gialla. Ma a breve sarà completamente rossa. Non solo da un punto di vista di emergenza, ma anche da un punto di vista ideologico. Perché di fatto, con quello che è accaduto in queste elezioni americane, direi che l'impero cinese ha avuto un grosso vantaggio, ha sicuramente avuto un grosso beneficio da quello che è accaduto, da quello che sta accadendo, anche se c'è ancora ben poco di certo. Visto che, a quanto pare, la vittoria di Biden è stata propiziata da dei brogli dovuti al voto postale. Poiché molti di questi voti sono stati poi perduti o addirittura buttati via da quello che abbiamo potuto recuperare, da quello che sappiamo a livello informativo, mediante alcuni video che sono arrivati soprattutto nel web. Sicuramente se ci dobbiamo affidare ai mezzi di comunicazione avremo a che fare comunque con una verità ampiamente distorta e parziale, come ben sappiamo. Comunque, fatta questa premessa, ben consci di quello che potrebbe accadere sulle dinamiche sociali, politiche nel nostro paese, non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo perdere la serenità, anche se non è così facile in questi momenti. Ognuno di noi può comunque fare la differenza, ognuno di noi è artefice del proprio destino. Ricordiamoci che il pensiero genera la materia, ok? Per chi ha studiato un po' di fisica quantistica sa di che cosa parlo. E perciò dobbiamo capire insomma quello che vogliamo fare, quello che sarà il nostro prossimo step, sia a livello individuale che collettivo. Anche se in questo momento ci sentiamo fortemente limitati, non dobbiamo mettere da parte quelli che sono i nostri obiettivi. Soprattutto se questi obiettivi vanno di pari passo a un miglioramento, come dire, generale. Che va a toccare poi anche i nostri cari o comunque quelle persone che hanno a che fare con noi. Oggi parlerò di PNL, magari un argomento che non ho ancora affrontato durante questi video, nel corso di queste registrazioni, ma che può ritornarci utile in termini anche pratici, soprattutto pratici. La PNL che è stata così tanto demonizzata in questi anni, proprio perché viene utilizzata soprattutto dai mezzi di comunicazione per manipolare quello che è il pensiero delle persone. Soprattutto la pubblicità, la propaganda fa ampio uso di PNL, ma in modo sicuramente poco etico e trasparente. Invece, in termini funzionali, in termini proprio di obiettivi, è interessante conoscere quelli che sono i metaprogrammi. Con questo parolone che cosa voglio dire? Che ognuno di noi è orientato, ha un orientamento, ha comunque una molla che lo spinge ad andare in una certa direzione. Anzi, c'è chi è spinto ad andare in un determinato luogo, in una determinata situazione, invece c'è chi scappa da una situazione o da un luogo. Quindi questi metaprogrammi semplicemente si chiamano verso e via da. È importante conoscerli, proprio perché ci fa capire qual è la nostra vera leva motivazionale. Se è il dolore o il piacere. Voi capite bene che se è il dolore a farci muovere, questo tenderà a esaurire le nostre energie. Perché vivremo sempre nella preoccupazione, nell'allarmismo, nel terrore, di un possibile e di un probabile pericolo. Quindi noi, se siamo spinti da questa leva motivazionale del via da, dobbiamo cercare di lavorare per avere anche una leva verso. Che ci conduca a un obiettivo, a una destinazione ambita. In questo momento la mia destinazione è, comunque, non so, più libertà. Vivere in un ambiente, in un luogo dove posso espletare le mie libertà, dove posso autorealizzarmi, autodeterminarmi come individuo, allora dovrò passare alla leva verso. Quindi io devo andare verso un luogo, verso una destinazione. Quindi, prima di tutto, è importante riconoscere questo aspetto di noi. Molta, molta umiltà. Non che sia necessario studiarsi la PNL, anche se lo consiglio. Andatevi a vedere i video, ad esempio, di Vincenzo Fanelli. Che lui si occupa sia di PNL, ma anche di fisica quantistica. Cerca di unire questi due settori in modo appropriato. Oppure c'è Roberto Re che ha sempre parlato, ha sempre, diciamo, scritto dei libri pertinenti. Lui è allievo di Tony Robbins, organizza anche dei corsi con la sua azienda. L'HRD, mi pare si chiami. E anche lui, insomma, spiega molto bene questi aspetti del tutto umano. Del tutto umani che orientano la nostra esistenza. Quindi, la chicca di oggi era proprio questa. Cercare di spostarsi da un metaprogramma, via da, dal metaprogramma via da, a verso. In questo modo saremmo propensi a capire dove stiamo andando. Perché altrimenti il futuro sarà sicuramente molto più ignoto. Se scappiamo via da un dolore. Se ad esempio noi stiamo scappando via da quello che sta accadendo in questo periodo. Perché non ci piace. Mi rivolgo soprattutto a chi ha il mio stesso pensiero in merito agli accadimenti di questo complicato periodo, di questa complicata situazione. Quindi sappiamo che le cose non sono molto piacevoli. sicuramente tenderanno anche a farsi più complicate, più intricate, ma noi dobbiamo essere in grado di capire quale può essere quell'obiettivo che ci può tirar fuori dalle paludi nelle quali ci troviamo arenati. Quindi, sì, utilizziamo il dolore come leva, ma anche il piacere. Anche una visione rosea di ciò che vogliamo, di ciò che sentiamo dentro di noi, proprio a livello interiore. Cioè, quindi non parlo di di una volontà superficiale, materiale, ma di una cosa molto più profonda, molto più legata ai nostri valori, ai nostri valori autentici. ecco, dovete anche capire quali sono i vostri valori autentici, il che non è così scontato, perché i valori, che tra l'altro sono ampiamente discursi sempre nel mondo della PNL, sono un'altra componente direi essenziale che praticamente smuove le nostre vite. Però noi dobbiamo anche identificare questi valori. Quindi provateci, andate ad informarvi sul web, anche se non volete leggervi un libro in particolare, sul web trovate molta carne, trovate molto materiale che che vi aiuterà a identificare i vostri valori. In questo momento è importante fare un lavoro introspettivo di questo tipo. Ok? Ciao!